se hai un android tv in questo video ti mostro come proiettarla e controllarla direttamente sul tuo computer allora questo è il computer che andrò ad utilizzare per collegarmi a questa android tv qui come vedete sto utilizzando il mouse invece che il telecomando anche perché è molto più comodo e la prima cosa da fare è abilitare le opzioni sviluppatore quindi andiamo qui su impostazioni e una volta qui andiamo qui su informazioni e qui troveremo la voce build troveremo qui in basso dopodiché facciamo clic ripetutamente per sette volte fino ad abilitare la modalità sviluppatore fatto questo torniamo in impostazioni e qui troveremo la voce opzioni sviluppatore facciamo clic e qui come vedete ci sono tantissime opzioni da poter abilitare in questa sezione e noi dobbiamo cercare debug usb andiamo ad abilitarlo e in alcune tv troverete la voce adb debugging che è la stessa cosa andate ad abilitarlo fatto questo torniamo in impostazioni e andiamo su reti wifi e facciamo clic sulla nostra connessione per vedere l'indirizzo ip che ci servirà poi per la configurazione sul computer per poterci collegare i due dispositivi devono essere collegati alla stessa rete a questo punto andiamo sul nostro computer per completare la configurazione una volta sul computer colleghiamoci sul sito di github e andiamo a scaricare questo strumento che troverete il link sotto in descrizione e andiamo a scaricarlo da qui questa qui la terza andiamo a scaricare questa versione e una volta scaricata andiamo a scompattarla troveremo la cartella qui andiamo ad aprirla dove troveremo tutta queste serie di file a questo punto facciamo tasto destro del mouse e clicchiamo su apri nel terminale e si aprirà windows powershell e qui andiamo a digitare questo comando punto backslash adb.exe spazio connect spazio e andiamo a digitare il nostro indirizzo ip che abbiamo visto prima sulla nostra tv e poi diamo l'invio dopodiché apparirà questo avviso sulla nostra tv consentire debug usb ovviamente andiamo a dargli l'ok per consentire il collegamento a questo punto torniamo su windows powershell e andiamo a digitare questo comando che troverete sotto in descrizione vi basta semplicemente copiarlo e incollarlo diamo l'invio e vedremo apparire la nostra tv direttamente sul computer e quindi possiamo gestirla avere il pieno controllo della tv direttamente sul computer possiamo fare tutto ciò che vogliamo non so se avete notato che in questo video ho utilizzato un box android che devo dire funziona benissimo anche con questo dispositivo lascia un bel like e iscriviti per altri trucchi come questo